Bene ragazzi, continuiamo con l'analisi di questo bellissimo Bernard, che poi ogni libro di Bernard è un po' tutti i libri di Bernard. Qui cosa dice nella seconda parte? Possiamo solo continuare a dire sempre e soltanto di sì nel caso in cui dobbiamo dire di no senza riserve. Di conseguenza l'errore è l'unico fondamento reale. Perché arriva a questa conclusione? L'errore è l'unico fondamento reale, perché noi non possiamo essere in assoluto in nient'altro che nell'errore. Infatti è guardare con esattezza tutto errore. Esistiamo però all'interno di questo fatto, perché all'esterno di questo fatto non potremo proprio esistere, in ogni caso non in modo costante. L'esistenza è errore. Ce ne dobbiamo fare una ragione con una certa tempestività, in modo da avere un fondamento su cui esistere. Si arriva a questo appunto dal suicidio di Hollensteiner e dall'impazzimento, che dicevamo, di Carrer. I due si conoscevano, erano entrambi persone fuori dall'ordinario, ma appunto i loro suicidi hanno delle cause esterne e interne, dice Öhler. E' sempre esistita la possibilità che Hollensteiner si suicidasse per cause interne, poi con l'ampliamento dell'istituto di Hollensteiner, eccetera, eccetera, anche per cause esterne. A parte il fatto che interno ed esterno, per nature come quelle di Hollensteiner e Carrer, sono identici. Esterno ed interno sono identici. Quindi, quali sono le vere cause di questo suicidio e impazzimento? Sono molto lontane nel tempo. Si tratta non già di filosofia, ma di matematica. Tutto è un calcolo mostruoso, estremamente facile, se l'abbiamo impostato sin dall'inizio senza interruzione. Ma non sempre siamo in grado di avere in testa come un tutto unico quanto da noi calcolato, e interrompiamo ciò che pensiamo accontentandoci di quel che vediamo. E a lungo non ci stupiamo di accontentarci di quel che vediamo, ovvero di milioni e milioni di immagini che si pongono l'una sull'altra e l'una sotto l'altra, che si spingono in continuazione l'una nell'altra e l'una lontano dall'altra. Ecco che cos'è l'errore. Ecco che cos'è l'errore.